La storia di Chiasteos di strada ha fatto la taria di Chiasteos di strada e le Bon ma Pidi Bon Noi abbiamo chiuso la taria il 31 marzo 2011 per la ristituzione. Dopo tre anni e mezzo siamo riusciti a completare un'opera dove si spera di ripristinare il tessuto sociale che esisteva una volta. Ricordo questi momenti nella consegna dell'arte ci si ritrovava fuori dalla batteria ed era un momento dove ci si parlava assieme ci si scambiava delle idee, delle proposte e pettegolezzo va anche. Ma in quel giorno lì si stava tutto in fila perché è venuta la neve, si stava un po' attenti di non simulare. Una signora così sbadatamente parte e giù è andata giù con i sei gambe per aria però ha salvato il latte sono cose che ti rimangono per sempre a noi qua a Castions avevamo un istituto gestito dalle suore consiglio così della batteria come sostegno aveva deciso di dare un quantitativo di latte appunto per aiutare questo istituto questi ragazzi che non avevano genitori è un aiuto insomma ecco diciamo sono il casaro della latteria di Castions di strada piace un po' tutto dalla lavorazione alla salatura alla stagionatura è un po' tutto un insieme la tradizione è il formaggio latteria classico di una latteria turnaria qui si fa ancora come si faceva una volta latte, sale e cali a presto a presto